Consegnate al comune di San Marcello Piteglio sulla montagna Piestoese 447 firme per dire no alla nuova funivia doganaccia corno alle scale e chiedere che i quasi 16 milioni di euro destinati a tale impianto siano impiegati in opere più urgenti a vantaggio di tutto il territorio. Lo annuncia il comitato un altro appennino e possibile versante toscano spiegando che a queste si aggiungono le 2150 firme raccolte dalla petizione su change.org. Le sostanziose iniezioni di risorse pubbliche garantite annualmente al sistema neve non sono riuscite in tanti anni a fermare lo spopolamento della nostra montagna dove i residenti dal 1962 al 2020 sono calati del 40%. Prendiamone atto sostengono i contrari alla funivia. Oggi con i cambiamenti climatici che giocano a sfavore insistere sulla neve è un accanimento terapeutico e uno sperpero di risorse. Per il comitato è giusto mantenere e sostenere le strutture che già ci sono finché questo è ragionevolmente possibile ma nel frattempo dobbiamo inventare altre strategie. Su queste tematiche prosegue il comitato. Si stanno finalmente aprendo interessanti prospettive. Abbiamo appreso con soddisfazione la notizia che la regione toscana ha deciso di finanziare completamente il progetto della casetta Pulledrari stanziando un ulteriore contributo di un milione di euro che si aggiunge al precedente contributo regionale di un milione e 350 mila euro analogo contributo di un milione di euro viene assegnato per il recupero del rondò Priscilla a Cutigliano. Questa vicenda, conclude il comitato, dimostra che quando una comunità rivendica i suoi diritti in modo adeguato è possibile cambiare anche le scelte politiche sbagliate.